La preghiera è per quelli che sono morti durante la costruzione della galleria del laboratorio di tisca iniziale, per quelli che sono morti nella costruzione del laboratorio e per tutta la gente che è morta. Dottor Castelli con il Comitato di Azione Popolare anche a Teramo, il banchetto per la raccolta di firme con l'ipotesi della chiusura, la volontà, insomma questo sarebbe l'obiettivo della chiusura dei laboratori del Gran Sasso, un obiettivo ambizioso ma a tutela della salute dei cittadini. Sì, l'obiettivo è la chiusura del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso. Io sono un medico, un medico di famiglia, posso dirvi la cosa migliore che posso fare per tutti è chiedere la chiusura di quel laboratorio, assolutamente incompatibile con l'ambiente dove si trova, incompatibile con la salute dei cittadini del territorio terramano. Dopo il banchetto ad Isola del Gran Sasso anche a Teramo, che risposta si aspetta? Allora io non è che mi aspetto risposte, le ho già avute, ho consensi veramente impressionanti, non pensavo tanto, si sta svegliando la coscienza civile della gente, la gente capisce qual è la problematica, la vive, la conosce, sa più di quello che pensiamo. Cosa risponde a chi le chiede informazioni? Rispondo innanzitutto col mio esempio, sono un medico, se un medico, un medico di famiglia vi dice che quel laboratorio non va bene, fidatevi. La domanda è sempre quella, lei si aspetta veramente che questa sua battaglia possa avere un compimento? Sì, io invito a chiudere il laboratorio del fisica nucleare in maniera autonoma, di fare un atto di pentimento, di riconoscere gli errori che sono alla base, chiudete il laboratorio, andate via. Non ha paura che ci possano essere delle ripercussioni per questa sua battaglia? Io penso di essere nel giusto, tutelo la salute dei miei assistiti, ho l'occasione di tutelare la salute di una popolazione molto più ampia, sono assolutamente convinto di quello che dico e lo dico come medico.